Nel settecento francese un abate benedettino di nome Augustin Calmet divenne celebre per la sua opera. Dissertazioni sopra le apparizioni degli spiriti e sopra i vampiri o i redivivi d'Ungheria, di Moravia e di Slesia. Due corpulenti volumi che trattano di avvenimenti macabri, di risurrezioni e quindi di morti redivivi che dilagarono in Europa. Storie che l'autore scrisse qualche anno prima di morire, nel 1746, e che permisero a una figura oggi protagonista del corpus narrativo fantastico, e soprattutto dell'orrore, di diffondersi in tutto il mondo. Una creatura che all'inizio invece era soltanto presente in un determinato tipo di folclore europeo. Sto parlando del vampiro. Un insieme di storie raccolte da questo abate che divennero così famose che persino Voltaire inserì alla voce vampiri nel suo dizionario filosofico un rimando al testo di Augustin Calmet. Tra il 1730 e il 1735 non si sentì parlare che di vampiri. Gli si fece la posta, gli si strappò il cuore, vennero bruciati. Somigliavano agli antichi martiri, più li si bruciava e più se ne trovavano. Alla fine Calmet divenne il loro storiografo e trattò i vampiri come aveva trattato l'Antico e il Nuovo Testamento, riferendo fedelmente tutto quello che era stato detto prima di lui. Ovviamente Voltaire tratta queste storielle come il frutto della superstizione più ignorante e lo fa con il suo solito sarcasmo, ma neppure lui può resistere al fascino di queste avventure orride. E infatti proprio nel dizionario riporta, seppure riassunto, uno degli episodi più interessanti che è una grande caccia a un vampiro ungherese. Nella sua opera, infatti, Calmet riporta il contenuto di una lettera che aveva ricevuto e che attestava, secondo il suo autore, l'inequivocabile esistenza dei vampiri. Poiché qualche tempo prima, in una data non precisata, una delegazione proveniente da Belgrado, composta da ufficiali civili e militari, uomini dotti, studiosi, oltre a 24 granatieri del reggimento del duca Alessandro del Württemberg, si recò in un villaggio dove un famoso vampiro, deceduto da diversi anni, stava creando scompiglio tra i suoi parenti ancora in vita. Insomma, questa delegazione era quella che oggigiorno noi chiameremmo una squadra di cacciatori di vampiri. Nella lettera si fa riferimento ai parenti del vampiro, poiché in questa specifica tradizione folcloristica si riteneva che i vampiri andassero ad ammazzare soltanto i loro parenti. E lo facevano nella maniera che tutti noi conosciamo, ovvero succhiando loro il sangue. La delegazione, quando arrivò con tutti i granatieri e gli studiosi e gli ufficiali, si rese conto che già delle vittime erano state lasciate su quel campo rurale, dimenticato da Dio. Il vampiro aveva ucciso tre suoi nipoti e un fratello, e aveva persino incominciato a mordere e succhiare il sangue della figlia di sua nipote, una giovane bellissima, che già era stata morsa due volte e che cominciava a subire quel malessere, quella debolezza, che tutte le vittime di un vampiro riportavano come tratti caratteristici. Uno stato di pietoso languore che prosciugava il corpo degli sventurati, divenuti bersaglio di questi morti redivivi, di questi vampiri che ammazzavano i propri parenti. Non c'era quindi tempo da perdere. Per salvare la giovane, bellissima, come ci viene descritta nel resoconto, la delegazione doveva fare alla svelta. Questi militari ufficiali ed esperti si recarono alla tomba del cosiddetto vampiro, e subito la trovarono illuminata da un bagliore sinistro, simile a quello di una lampada, ma non vi era nessuna lampada nei dintorni. La tomba fu aperta e al suo interno venne trovato un uomo apparentemente sano, integro, con tutti i capelli, le unghie, gli occhi spalancati come solo un vivente potrebbe tenere, e un'altra caratteristica alquanto inquietante. Il cuore palpitava ancora. Dei segni questi, evidenti a tutti, che si trattava di un corpo anormale, poiché seppellito da anni sottoterra, ma che non accennava a imputridire. Dunque erano ritenuti così, esteticamente, i vampiri nel folclore europeo, alla fine del 600 e all'inizio del 700. Dei cadaveri che non marcivano, e che, tra le altre cose, in questo specifico caso, ci viene descritto un vampiro con il cuore che palpita ancora. Dunque i cacciatori, la delegazione di cacciatori di entità dell'oltretomba, tirò fuori il cadavere per eliminare la minaccia. Lo trafissero al cuore con una lancia di ferro, e poi gli mozzarono la testa a colpi d'accetta, come si usava a fare nelle esecuzioni capitali in Inghilterra. Ci viene spiegato come una sorta di descrizione per far capire quali erano le movenze. E infine il cadavere fu rigettato nella fossa e ricoperto di calce viva. Dopo tutte queste operazioni, gli assalti infernali del vampiro cessarono, e la giovane e bellissima poteva cominciare una lenta guarigione. Laddove il vampiro l'aveva morsa, però, presero forma delle macchie blu scure, come una sorta di lividi, e che ci interessano poiché si discostano un po' da quella che è la tradizione letteraria del vampiro, dove costantemente le belle ragazze vengono morse al collo. In questo caso non si fa menzione di nessuna parte specifica del corpo della giovane, poiché non è importante. Anzi, questo è uno dei pochi resoconti che mette in mostra la figura del vampiro quasi del tutto aderente a quella che conosciamo noi oggi, ovvero di un'entità demoniaca che va a succhiare il sangue di belle ragazze, e lo fa notte dopo notte, poco alla volta, prosciugando la vittima. Si tratta di un omicidio che in realtà appare pochissime volte nella tradizione folcloristica storica. I vampiri storici ammazzavano nei modi più disparati e non di frequente succhiando il sangue. I modi con cui lo facevano erano tantissimi. Forse il più frequente è quello dello strangolamento. A tal proposito, l'abate Calmè ci racconta un'altra storia, che dice di aver ripescato da un'opera intitolata Magia Postuma del 1706, dove si racconta di una donna, e quindi stavolta il protagonista re di vivo, è di sesso femminile, che è stata sepolta e quattro giorni dopo essere morta, ritornò in vita, naturalmente, per dar fastidio ai viventi di quei poveri villaggi rurali dell'est Europa. Un ritorno sulla terra alquanto spettacolare, poiché gli abitanti furono testimoni dapprima di un gran rumore, poi di un trambusto che diede origine a uno spettro che aveva la forma di un cane, poi tramutatosi subito in sembianze umane. Lo spettro era malvagio, vendicativo, e assaliva gli sventurati alla gola e stritolava lo stomaco per indurre il soffocamento. Tali attacchi lasciavano lividi in tutto il corpo, indebolendo le vittime tanto da farle diventare pallide, magre. Il re di vivo, presumibilmente la stessa donna morta quattro giorni prima, attaccava persino gli animali. Alcune mucche furono trovate in fin di vita, e al mattino i cavalli apparivano stremati, senza motivo, sopraffatti dalla stanchezza e con la schiuma alla bocca, come se avessero affrontato un lungo ed estenuante viaggio. Ma abbrancare vigorosamente la vittima per soffocarla non era l'unico metodo per ammazzare qualcuno che conoscevano i vampiri. Ve ne erano molti altri, alcuni molto più subdoli e silenziosi, come nelle zone della Moravia, nell'attuale Repubblica Ceca, dove si raccontava che i vampiri fuori uscissero dalle tombe per recarsi a cena, con coloro che un tempo erano stati i loro vicini e parenti, e quindi si sedevano a desinare con loro, e la loro presenza causava la morte. Soprattutto se il vampiro faceva una sorta di cenno a quella che era la sua vittima designata, la quale moriva qualche giorno dopo. Una scena che ricorda vagamente quel vecchio film Weekend con il morto, dove i protagonisti si portano appresso per tutta la vacanza a questo defunto, spacciandolo per vivo, ma i cui risvolti storici del folklore di queste zone della vecchia Europa in realtà non sono per niente divertenti. Un risvolto interessante di questi avvenimenti che riguardavano vampiri imbucati a cena fu il coinvolgimento non solo dei sacerdoti del luogo, ma anche di cariche abbastanza elevate per quanto riguarda la gerarchia ecclesiastica, ovvero dei vescovi. Ci fu una delegazione di vescovi e sacerdoti che di comune accordo chiese aiuto a Roma per poter porre fine proprio a questi casi di cene disastrose. Dalla Santa Sede però la risposta fu abbastanza ovvia. Bollarono questi episodi come frutto di superstizione popolare, di folklore e quindi non aiutarono affatto questi abitanti che erano alle prese con un problema grave. Loro lo ritenevano un problema grave, ci credevano davvero e quindi ricorsero alle maniere forti quelle che conoscevano loro, ovvero riesumare un gran numero di cadaveri, bruciare, mozzare teste e impalare. Ma uno dei resoconti più affascinanti contenuti nell'opera di questo abate francese riguarda la storia di un pastore della Bohemia del Settecento, sempre nell'odierna Repubblica Ceca. Un pastore che fu ritenuto causa di svariati omicidi che presero piede in questo villaggio non menzionato, il cui nome non lo sappiamo, e che quindi fu riesumato dagli abitanti per essere neutralizzato. Il cadavere di questo pastore, che era morto già da tempo, fu impalato con un palo lungo, spesso e acuminato, tanto da finire piantato a terra, quindi ancorato al terreno, tanto era stato trafitto, ma a quel punto accadde l'evento soprannaturale, poiché il pastore cominciò a deridere quegli abitanti, mentre era trafitto dal palo. Li derideva, li sfotteva, perché non solo non lo avevano ammazzato, ma gli avevano regalato un bastone con cui lui poteva scacciar via i cani. Si tratta di una battuta che noi oggigiorno comprendiamo a fatica, ma dobbiamo calarci in quel contesto rurale, dove l'uomo doveva fronteggiare le minacce naturali, e che quindi si era sempre a contatto con la natura e con le bestie selvagge, con i cani randagi e selvaggi, con i lupi. E questi pastori portavano con loro dei bastoni, con cui difendersi, con cui bastonare le bestie. E dunque il vampiro, che prese in giro gli altri suoi vicini, quelli che un tempo erano stati i suoi vicini, dicendo loro, mi avete impalato, sì, ma io con questo palo non ci faccio altro che scacciar via i cani, poiché non mi avete fatto niente. A quel punto gli abitanti furono costretti a ricorrere alle maniere forti, come sempre. Stavolta però si affidarono al boia, colui che emetteva le condanne a morte. Gli dissero, pensaci tu. E quindi il boia caricò il cadavere del sedicente vampiro su un carretto, lo trasportò fuori dal villaggio e gli dette fuoco. Il cadavere, avvolto dalle fiamme, agitava le braccia e le gambe come se fosse stato ancora vivo e ululava, disperato. Quindi il boia, dopo averlo carbonizzato, lo trafisse con un gran numero di paletti su tutto il corpo, compreso il cuore, facendo sgorgare copiosi litri e litri di sangue vermiglio, brillante, a testimoniare il fatto che quel corpo, ancora una volta non putrescente, era in realtà tenuto in vita da un potere soprannaturale che gli impediva di marcire. Questi sono solo alcuni dei resoconti messi assieme dall'abate, Augustin Calmet, lo storiografo dei vampiri. Colui che ha dato origine e che ha ispirato la figura predominante di questa narrativa horror, a cominciare proprio da Dracula, di Bram Stoker, resoconti che si rifanno a degli avvenimenti realmente accaduti, secondo i loro autori e testimoni, a cavallo tra XVII e XVIII secolo, che tuttavia assomigliano molto da vicino ad altri avvenimenti, ben più antichi, medievali. L'episodio di leggende affilate, i racconti horror del monaco di Byland, parla proprio di questo, ma tre, quattro secoli prima. Consiglio assolutamente di recuperarlo. Quel che si potrebbe desumere da questa cavalcata nella non vita è che, proprio come nel Medioevo, il miglior modo per liberarsi dai redi vivi, o vampiri, come li chiama Calmet, è quello di darci un bel taglio, dritto sul collo, magari piantando qualche paletto nelle membra defunte e nel cuore. Tutti elementi onnipresenti quando si parla di simili storie, comprese le caratteristiche estetiche dello stesso vampiro, ovvero un cadavere ben conservato, privo di vermi e putredine, dalle membra flessibili, dagli arti agili, e che solo talvolta emana fetore di morto. Insomma, parrebbe del tutto assente questa bellezza sensuale del non morto, del vampiro, una deriva che appartiene a una corrente narrativa dark romance, di cui tutti conosciamo gli esempi, ma che in verità non trova alcun riscontro storico, poiché il vampiro tradizionale di sexy non ha niente. Se questa storia ti ha appassionato, seguimi, così non perderai l'occasione di vivere le prossime leggende affilate. Ciao. Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache, narrati da Lorenzo Manara.